Milkshake, Sunday, fior di latte e gelato Cioè come fai a parlare? Dai, hai un video dai, vai bravo Ce l'ha sfruttato anche sti momenti Cioè siamo con me la domanda Davvero, Sunday, fior di latte e iniziano gelati Bono Milkshake, cioccolata, fragola Non c'è al pistacchio, quindi mi domando se dove lo volevi Questo ha più milo al pistacchio E poi c'è la cremiziosa Oh, non c'ho scritta No, il McFlurry al pistacchio esiste Ah, ma qui non c'è proprio il McFlurry nelle calorie Ah, McFlurry, eccolo qui Dio buono Ora mi fate pensare, cazzo C'è qualche festa Ma che minchia so, Andre Porca puttana Mi chiudo in casa e mi prendono Sì Patatine Come? Cazzo fa il tuo Patatine Allora, hamburger Ma questo qua non ha intenzione di mettere in nessuna parte Ma dove lo devi mettere? Sette regole d'oro Lo mettiamo nella presentazione Ma dove lo devi sapere? Sette regole d'oro Vai Muoviti a praticare il tuo sport preferito due volte alla settimana per almeno un'ora Cioè dopo aventi detto che c'è miliardi di cattolini che mangi ti dando le regole Cerca di fare movimento ogni ora, usa le scale al posto dell'ascensore e cammina mentre sai il telefono Tiara, per favore, mi sto concentrando Palazzo blu Mi leggo nella testa Crocchezze di pollo e patate sarebbero conti Quindi abbiamo pianini 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 Pianini, contorni, insalate, bevande e gelate Pianini Un po' di pianini per tutti ragazzi Si lavora bene Si potrebbe mettere